Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Urban Reals Ho visto che in confronto a sbagliati giochi questo non va tanto male nel senso che vedo che mi piace Quindi io lo continuo perché a me piace molto più di voi Non so se l'avete sentito ma il mio naso ha fischiato Spero che non l'avete sentito perché è una cosa abbastanza strana Quindi io gioco ovviamente parte la musica a cannone ma io ve la levo perdonatemi Non vorrei rischiare cose strane Attiva come solo scusate Et voilà Troppo ogni volta si riattiva Ovviamente tu continui a disattivare e lui si riattiva Disattiva riattiva Un po' ti stanchi però vabbè No avanti che non c'è frega Quindi faremo un paio di partite al volo scusate il microfono Ah così va meglio Sono sempre più raffreddato ovviamente A me si porta via Livello 24 vediamo un po' eh Oh niente coros ragazzi Niente coros Isaccomprovedence coraggio Quindi ah lui c'ha C'ha un coraggio Chi è? Coraggio questo qui Quindi dovremmo andare prima a questo Quindi ci avrà un 9 di attacco Eh buono Da 5 dell'avversario Minimo 3 Quindi dovrebbe usare questo Eh meno 6 di attacco avversario Minimo 6 Attacco Un po' potenza Non c'è va bene Tu hai risposta Esatto Quindi se si dà una mossa Allora E questo qui Ve lo fa vedere un attimo al volo Questo qui Poi 11 Vuol dire che Ci sono dei tornei Queste Questo gioco Dove Come vi ho spiegato l'altra volta Ci sono vari vincite Ogni torneo dura Se non sbaglio 60 minuti E Anzi 60 minuti di riposo Nel senso Uno ogni due ore Ok E Questa Almeno 3 vite Avversario Minimo 4 Perché ha fatto sta cosa Io faccio 8 16 24 Non dovrebbe vincere Perché la carica D'era un po' Eh C'ha almeno 3 vite Mamma mia Perché ha usato Quelle vizette Manco fa veleno Oddio ragazzi Non l'ho capito Come ha giocato Vabbè Non mi interessa E Vedi Poi 10 minuti Se non sbaglio Dovrebbe finire il torneo Perché manca 10 minuti alla fine del torneo E Almeno che Io c'ho Eh Meno 50 Non mi sarebbe torneremo Fai 6 per 6 36 E Boh Non so se Ma si Facciamo 35 Ok Ma si dai proviamo Non credo che carica Come Come batto Su qui Non credo che faccia Una shot Non Almeno che Poi Vole rischiare Però Boh Per me va a 0 Lo manda a 0 E mi ha fatto spiegare Ben 10 6 7 Pizzette Non lo so Non lo so Non lo so Dove vedete come gioca Dove vedete come gioca Vedi Coraggio e potenza più 2 Perché l'ha spiegata L'ha mandata a vota ragazzi L'ha mandata a vota Vabbè C'ho veri vincita Quindi dovrei andare A vita para E c'avevo le stesse pizze Ma E ce la giochiamo Perché io Ho Ancora Più 6 d'attacco Ok ovviamente Quello lì Come vi ho spiegato 8 volte Lì da Un bonus Un Oh Mi dimentico sempre Un potere Quindi in questo caso Da più 6 d'attacco Beh 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 Io chiedo Più sarà E ovviamente 6 per 6 36 Però io Ehm Eh Eh raga Eh patta Guardate Dovrei forse aver Vinto Per la fortuna Delle stelle Allora lui va 36 36 Quindi para Stelle para Ho vinto Oddio no Sì ho vinto Oddio che paura Mamma mia Brand 4 Un altro Ah cacchio Ah no Ho perso Oddio Aspetta Eh Cacchialolla Ragazzi Cacchialolla Ma fregato Ma fregato Di brutto Eh Ah è patta È patta No No Non piace Vincere Io vincere Perdi Cacchialolla Dai Cacchialolla Dai Butta 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 Di camalbido Per caso C'erano 7 Grandi Forse Anzi Noi Forse Sicuramente Se Le minori Aver Vinto Questo Unico Non mi scende E se si uccide qualcuno Scusate ma Pian piano piano Rive la fine Qui E poi Sparirà Parà Sparisce Ma hai vinto Facile Seconda partita Livello 6 Livello 30 Livello 12 Che faccio Un cataclisma Con coso Così Ma quell'altro Ecco Adesso ci trovo Coloss Ragazzi Mamma mia Ah Questo è fortissimo Stop Potere Ragazzi Mi leva Tutti i poteri Che ho Eee Questo Ecco L'unica cosa Buona Che gli levo Cioè Gli levo Le pizzette Che perde Da questi Bello Questo Secutor Bello Nili Maista Ah Però è rara Perché vedo che è oro E questo è Argento Argento Beh ovviamente Oro E Ragazzi Vabbè Candy è raiissima Ragazzi Non si trova più Candy Ma si trova più facilmente Dentro i pacchi Ovviamente Questo L'unica Quattro D'avversario Mi dico tre Chi è stop Bonus Stop Potere Non lo so Non lo so Io Facciamo a te Meno 34 D'avversario Non fare Un bella Io farei Così Vabbè So che è persa Però Eh Mi hanno fatto un 8 Oddio Non ce l'ho Ormai ho perso Le cose strane Perché succedono qui Aiutate Bababia Allora io c'ho 11 Però Lui Può shottarmi Qualunque Fiducia Lui c'ha fiducia In questo momento Fiducia Quindi c'ha potenza E danno più 2 Quindi c'ha un 10 Ragazzi c'ha 80 Di danno 80 di potenza E usa Contra colpo Non c'ha risposta Per me Usa Questa 80 E io devo usare 10 pizzette Ragazzi Ma Vabbè Rischiamo Dai Per fare 80 80 Le c'ha 3 4 5 3 4 5 Patta 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 Vabbè Dai Dai Rischiamo Rischiamo Tanto È un gioco Non si vince Non si perde Niente Dai Non credo Può essere Che usa Questo qui Che non mi ricordo Non mi ricordo Come si chiama Questo ci hanno fatto Anche Vladimir Questo dovrebbe essere Il boss Dei Velo 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 Oh Oh Raga Guardate Se ci ho preso No Ah 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 Questa è dolorosa Eh Questa è dolorosa Perché vi giuro Non me l'aspettavo Questa Non la L'aspettavo Ah Eh Niente Niente Dai Eh Anche se faccio Stop potere Stop bonus Sangre Ha vinto Comunque lui Vabbè Dai 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 Sì 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 Contracolpo Veleno Se lui Può usare Contracolpo Eh C'è Otto Vabbè Vabbè Vinto Dai Vinto 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 Dai Non Non Pensavo Che non La Caricassero Non Non La Pensavo Poi Eh Sì Qualcosa Che Veli Io Non Ricordo Non Ricordo Come Siamo Questi V Vabbè Velociraptor Vabbè Velociraptor I Gaster Che Ah I Belli Uppert I Uppert Sono strani Sono i ricordi del gioco Facciamo un'altra Sì Facciamo un'altra Che mi sto divertendo Assai Ho tre minuti Comincio da undici Dai Ci siamo quasi Oddio Non ho visto che A 27 Leader Contrattacco Contrattacco E c'è Tutti i misti Ah no C'ha E I Montana Mi pare che si chiamano questi Personaggi Tocca a me E Montana E 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 Questo C'ha Contrattacco Non mi ricordo Cos'è Contrattacco Vabbè Non mi interessa Lui c'ha risposta Chi è che c'ha risposta Sconfitta Stop Vabbè Stop Potere Non mi interessa Questo è Veleno Io normalmente È Veleno Lo voglio far Vincere Quindi Faccio Bam 42 Go Babo Dolore Dolore Fisico Mortale Poi Faccio Morire La terza Faccio Vincere La quarta Per forza E poi Dove Vinto Vado Patta E vado Vincere Con l'ultimo Non lo so Vediamo Vediamo come si sviluppa Ogni volta Cambia Non è che Può essere Decida Può essere Usi Quella 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 Vinto Non è Anche Le carte Che c'ha L'avversario Stop Attacco Io c'ho Bonus Però A meno Che non D'arri di Alta Guarda Per una Pizzetta E comunque Sarebbe Di patta E avrei Vinto Io Perché le stelle Sono minori Caraggia Raffreddore Ragazzi Non vedo Che mi passa Guarda 8 E c'è Veleno Vedete Veleno È veramente Una bella Carta È veleno 3 Quindi 8 5 Vediamo Come se La comporta Vabbè Sicuramente Questo Lo userà Quasi Alla fine Sconfitta Questo Lo fa Perdere Se lo Fai Perdere Mi pare Molto Strano Io Potrei Falla Vincere Forse Se lo Fa Perdere Dovrei Vinto L'engage Se La Fa Perdere Ah No No C'ha Ragione Vince Lui Dannaggio Alle stelle Ragazzi Non ci penso Ma le stelline Guarda Vabbè Ho risparmiato La pezzetta La pezzetta Andiamo La pezzetta La vediamo La pezzetta Ok Tocca a me Quindi Lui ha 81 Di attacco Vabbè Questa qui Non la Non la Ah Vabbè C'ha 7 È un 70 No 63 Stavo Stavo Dicendo Una Caurata 63 E Una 63 Vediamo Se lui Ha Un 81 Di Attacco Uh Ragazzi Ai 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 C'ho Poche Pizzette Pizzette Io Questo Lo Faccio Perdere Almeno Che Non Fa L'infame E Attacco Quello Allora Mette Pizzette Eh Vabbè Vabbè Rischiamo Rischiamo Dunco Oddio Pannaggia Pannaggia Il dubbio Mia Perché 6 Pizzette Fa 8 Però Non è Non è Più 81 Ma Sarebbe Lo stesso De quello Accanto Perché Non è 9 Eh Pannaggia Pizzette Deve Ho fatto Forse Una Gran Capparata Ragazzi Mamma mia Ho fatto Un danno Ho fatto Un danno Ho fatto Un danno Ho fatto Un danno Vedi Pam Non è Due Sette Eh Vabbè Sto Sbucciato Eh Ragazzi Vabbè Niente Una Trovo Due Perse Faffan Bene Sto Mazzo Non è Per Meno Diffici Vitti Danni Io Non ho Fatto Danni Vabbè Sì Vabbè Più Meno Veleno 500 C'è ragione Veleno Ragazzi È tutto Credo che Sono passati Più Meno 12 Minuti 13 Minuti Guardate Il microfono Ragazzi Stava qui E mi è uscita Qua Abbiamo Tito Una Pigna Io vi saluto E grazie D'attenzione Alla prossima Marino Pile Pile C'è ragione C'è ragione